Mentre il ministro Costa ed il vice premier Di Maio prendono le distanze dall'iter autorizzativo per tre sondaggi petroliferi nel marionio tra Puglia, Basilicata e Calabria, infuria la polemica su quella che si ritiene una sorta di schizofrenia a 5 stelle sui temi ambientali. La regione Puglia ha già preannunciato ricorso al Tar del Lazio e sarà certamente eseguita dalla Basilicata, mentre Costa ha dichiarato che non firmerà mai alcun provvedimento autorizzativo per non tornare indietro alla preistoria in materia energetica. Di Maio invece ha battuto la croce sul precedente governo che avrebbe impostato un iter autorizzativo impossibile da fermare senza incorrere in reati penali, appellandosi ai giudici affinché fermino il percorso. Ma il coro dei no alle trivelle in mare, come sempre in Basilicata, si leva dal consigliere regionale Piero Lacorazza, che ancora una volta è schierato in prima fila, come anni fa, per dire no alle ricerche in mare per difendere la sua regione. Una totale opposizione che il consigliere Lacorazza argomenta e motiva. Ascoltiamo. Qualcuno voleva far dimenticare ai Lucani il referendum che la Basilicata ha guidato nel 2015-2016, poi il 17 aprile. Però così non è. E così eravamo già convinti che prima o poi quei temi tornassero nuovamente di attualità. E sono tornati. Avevamo ragione noi. La Basilicata che cosa sta facendo? Almeno parlo per me. Stiamo provando a tenere alta l'attenzione e a verificare, a sollecitare che ci siano delle norme che blocchino i permessi di ricerca nell'Oionio, così come ci siano delle norme che avvino un cambiamento di strategia nel tempo, di strategia energetica del nostro paese. Le trivelle sono sempre state un suo cavallo di battaglia. Da tempo lei ha sempre cercato di andare contro. Infatti anche con Emiliano avete formato dei gruppi antitrivelle. Sappiamo che lunedì ci sarà un incontro. Che cosa farete in questo incontro? Io le darò forse una notizia, uno scoop. Io non sono un notriv. Non mi sono mai iscritto ad un'associazione notriv. La mia battaglia referendaria è stata sempre molto chiara. Bisogna rispettare i territori. Noi dobbiamo decidere, in qualche modo, anche noi a casa nostra. Basilicata prima significa esattamente questa. Non può essere come è accaduto con il governo Renzi e con lo Sblocchitalia che ti mettono i piedi in testa sul tuo territorio. Non può essere. Quindi io ho reagito promuovendo, organizzando, essendo protagonista, tra i protagonisti del referendum avviato nel 2015 e poi concluso nel 2016, perché penso che i Lucani non si possano far mettere i piedi in testa da nessuno. E aggiungo, in quei referendum c'era uno stop chiaro alle trivelle in mare, perché noi siamo coloro che hanno assunto degli accordi. Lo stesso ministro dello sviluppo economico, Di Maio, ha detto a Potenza che da quegli accordi non si può tornare indietro. Mi riferisco ad Eni e Total. A proparendesi. Si facciano lavorare imprese e lavoratori lucani. Non è possibile che noi diamo questo contributo eccezionale energetico all'Italia. Di petrolio abbiamo invece lavoratori espulsi da processi produttivi che devono mendicare davanti alla regione la loro dignità. Non è possibile e devo dire che anche grazie a quei referendum oggi quei lavoratori possono venire di fronte alla regione a manifestare, perché la regione ha conservato dei poteri. Questo è quello che in qualche modo con Emiliano continuiamo a fare. Ho chiesto ad Emiliano di organizzare questa iniziativa il 2014, perché insieme a lui credo che siamo stati protagonisti di una vicenda molto complessa, difficile, ma anche entusiasmante della politica, del cambiamento di strategia energetica del Paese. Grazie.